ciao ragazze nuovo video questa volta vi faccio vedere le mie scarpe estive 2020 perché si sono aggiunti le nuove scarpe si sono aggiunte le nuove scarpe di quest'anno per cui vi faccio vedere le mie scarpe estive se questo video vi è piaciuto un bel like iscriviti al canale seguitemi su instagram e un commentino qua sotto io vi lascio al video e scrivetemi quale scarpe vi sono piaciute di più sotto qua in questo commento e se per caso volete anche le scarpe invernali 2020 fatemelo sapere sotto ok vi lascio al video noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale un bel mi piace un commento qua sotto e seguitemi su instagram così almeno a fine video non ve lo ripeto ci vediamo al prossimo video ciao iscriviti al canale 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 iscriviti al canale